Il governatore di Puglia, Michele Emiliano, ha certamente dimostrato di essere un grande comunicatore, ma parimenti ha dimostrato di essere un grande ingannatore. Vedete un camaleonte, sa cambiare volto, aspetto, pelle per ogni stagione. Michele Emiliano ora chiede sacrifici ai pugliesi, come purtroppo è giusto che sia. Sottolinea che ora purtroppo c'è bisogno di misure drastiche, però in estate il signor Michele Emiliano, quando il Covid sembrava essersi così acquietato, ridotto ai minimi termini, aveva consentito a discoteche, sale d'abballo e quant'altro di fare di tutto di più. Beh, è chiaro perché all'epoca conveniva ciò ad Emiliano. Emiliano era in piena campagna elettorale e voleva farsi bello, voleva farsi amico del mondo dello spettacolo. Quel Michele Emiliano che sull'Ilva Arcelor Mittal ha una posizione abbastanza ambigua, cangiante. Ricordate il Michele Emiliano che era a fianco della Morselli e del sindaco Melucci e all'interno della direzione generale di Arcelor Mittal diceva che è bello, mi sento qui come se fossi a casa mia. Poi è quell'Emiliano che parlava di chiusura, poi quell'Emiliano che ha dichiarato di non aver mai parlato di chiusura e ora ha rigirato la frittata, ora parla di decarbonizzazione, parla della fantasia della produzione ad idrogeno. Questo per farvi capire come il personaggio è ipocrita. Questa è la verità. Ma si potrebbe andare oltre. Consideriamo l'emergenza sanitaria. Io penso che la sanità in Puglia sia un fallimento e questo fallimento della sanità pugliese esprima tutta l'incapacità politico-amministrativa di Michele Emiliano. Tutto questo periodo da giugno ad oggi, il periodo come ho detto prima in cui il Covid sembrava essere un fenomeno molto ma molto marginale, non ha pensato il signor Emiliano a potenziare i pronto soccorsi. Pronto soccorso, anzi a Taranto ha chiuso tutto, tutti i pronto soccorsi, ha lasciato solo quello del Santissimo Annunziata. Non ha pensato a potenziare le terapie intensive e ora purtroppo ci si trova in uno stato di disperazione perché non ci sono più posti letto nelle terapie intensive, perché probabilmente si arriverà a questa triste soluzione come è accaduto in altre parti d'Italia in cui bisognerà scegliere chi salvare tra chi è giovane e chi è anziano. Perché i posti saranno limitati e magari si privilegierà la persona più giovane. Questo è accaduto in altre parti d'Italia e non vorrei che altrettanto si verificasse in Puglia. Un personaggio molto ambiguo, camaleontico Emiliano, vuole essere l'amico di tutti e poi in effetti non è l'amico di nessuno. E' uno che si è gettato ora sul carro del Premier Conte perché Michele Emiliano vuole fare la scalata politica. Michele Emiliano che ha nominato come assessore, quello che era un consulente scientifico, il consigliere ora assessore Lopalco. Vorrei sapere quali risultati ha dato Lopalco, visto che l'epidemia galoppa anche a dismisura. Qual è l'apporto di Lopalco? Ma si sa, Lopalco era una figura che serviva per prendere voti, per drenare voti, come si suol dire. Penso al dramma delle imprese. Emiliano sarà molto bravo ora a dare tante pacche sulle spalle degli imprenditori, dei ristoratori, delle varie attività, dei bar. E' tanto che se ne frega, lui sta bene come sta. Ormai è stato eletto e come si suol dire, passato il santo, passata la festa. Ora starà lì altre cinque anni. Beh, volevo dirvi tutte queste cose per farvi capire il personaggio. Io da Tarantino, da Pugliese, penso che il governatore ci abbia gravemente ingannati. Non bastano i sorrissi, non bastano le piazzate, le comparsate che sa fare Emiliano. Quello che va a tagliare i vari nastri, quello che fa inaugurare due o tre volte il nuovo ospedale San Cataldo, prima da solo, poi con Conte. Cosa vi aspettate? Pensate piuttosto agli ammalati di Covid, che non avranno un posto in terapia intensiva, molto probabilmente. Pensateci. Se così sarà, Emiliano avrà grossissime responsabilità, innanzitutto morali. Meditate cittadini, meditate pugliesi. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.